Musica Amici sportivi, tifosi rossoneri, tifosi della Lucchese, buonasera. Siamo ancora alla sala hospitality dello stadio Porta Elisa di Lucca, quindi nella pancia dello stadio della Lucchese. Per questa quinta puntata stagionale di Curvo Ovest. Vado subito a presentarvi i compagni di viaggio di questa puntata, fino alle 22.30 circa. Sono con noi questa sera, una volta si diceva il terzino destro, ma ormai è obsoleto, il laterale destro della Lucchese, Francesco Corsinelli. Buonasera Francesco. Salve, buonasera a tutti. Grazie. E poi, immancabile, l'opinion leader al secolo, Giulio Castagnoli. Buonasera Giulio. Buonasera, buonasera a tutti. Siamo tonici? Come sempre. Nonostante il pareggio col Teramo siamo tonici, sì. Come sempre. Allora, vi dico subito, 360, 10, 38, 330, lo vedete anche in sovraimpressione, per i vostri SMS, per i vostri WhatsApp che stanno già arrivando. In pratica, da giovedì scorso, dobbiamo dire, la Lucchese ha giocato due partite. Ha raccolto poco perché c'è stata la sconfitta di Ancona e poi il pareggio, proprio di poco più di 48 ore fa, qui a pochi passi da noi, il campo è qui sotto, contro il Teramo. Naturalmente noi, senza tornare troppo indietro da Ancona, parleremo in modo particolare della partita con il Teramo. Naturalmente parleremo di tanti altri argomenti, leggeremo i vostri messaggi. Però, prima di tutto, partiamo come sempre dai numeri della sesta giornata. Anche perché, dopo domani, sabato, si torna in campo. Di fatto, la Lucchese, ma non solo, questo campionato, questo girone B, in sette giorni, da sabato a sabato, queste squadre giocheranno tre partite, che non sono poche. E mettono dunque anche gli allenatori nella condizione, forse chissà, di fare un turnover, forse di testare anche la condizione fisica dei loro ragazzi. La sesta di andata, con i seguenti risultati, non ve li leggo, ma li vedete, spicca anche la vittoria del Modena, che sarà il prossimo avversario della Lucchese. Tra l'altro, Modena e Lucchese torneranno ad affrontarsi dopo, direi, parecchi anni. E spicca il 4-0 dell'Ancona a Pistoia. E poi, naturalmente, la vittoria anche della Reggiana, 3-0 sulla Cararese. Dico la Reggiana, perché la Reggiana, che appena scesa dalla Serie B, balza da sola in testa la classifica con 14 punti, seguita proprio da Ancona a 13, Pescara a 12. Quindi, diciamo che le prime tre del campionato sono tre squadre che hanno anche un notevole blasone più o meno recente. La Lucchese la troviamo con 7 punti dopo 6 giornate a metà, più o meno a metà classifica. E con il rimpianto, forse, soprattutto due giorni fa, d'aver lasciato, secondo me, due punti qui con un terramo che, sinceramente, non mi era parso irresistibile. Francesco Corsinelli, intanto sei arrivato molto da lontano, mi dicono stasera. Da dove sei arrivato? Da Via Reggi. Da Via Reggi, tu sei Via Reggino, Via Reggino d'occhia. Sì, sì, doc, doc. Ho detto che, vabbè, poi ne parliamo, che forse avete lasciato qualcosa martedì. Prima vi ora ti voglio chiedere, per te, innanzitutto, è stato un ritorno questo a Lucca. Io, sinceramente, devo confessare la mia ignoranza in questo senso. Non sapevo che tu proprio da bimbo eri stato qui alla Lucchese. Sì, sì, era super gioco, comunque sia, si parla di dieci anni fa, due, dieci anni fa, giocavo nelle regioni della Lucchese, mi sembrava due anni, e poi sono andato a Via Reggi, giomisti nazionali, quindi sì, sì, per me ritorno a casa, diciamo, dai. Chi avevi a quei tempi come allenatore nel settore giovanile della Lucchese? Massimo Barsotti. Ah, l'amico Barsotti. Sì, sì, sì. Sai che Barsotti è stato un ottimo calciatore, lo sapevi. Sì, sì, ma parlai quando ero piccolino, si sentiva parlare del mister, diciamo, e si usciva questa voce che era brava a giocare. Sì, sì, è stato un buon calciatore, lo salutiamo se casomai ci stesse seguendo. Certo. E questo ritorno a Lucca finora com'è stato? No, su me è stato positivo, al di là di qualche risultato che sicuramente abbiamo sbagliato qualche, diciamo, errore di troppo, che magari ci ha costato, come esempio, due punti col Teramo, o comunque sia due punti col Cesena, o perlomeno un punto guadagnato. Però si vede un grande gruppo, un gruppo unito, di ragazzi, soprattutto di ragazzi per bene, nel senso che hanno voglia di migliorarsi, lavorare ogni giorno. E questa cosa, per quanto mi riguarda, non mi sono stati pochi di gruppi, diciamo, uniti e compatti per una stessa causa, per uno stesso obiettivo. Quindi questo ci fa solamente onore, ci dà forza. Senti, com'è la scelta? Te lo chiedo subito, perché l'altra volta in pompa magna i tuoi colleghi Nannini e Frigerio, il numero 6 Cosimo Nannini, il numero 16 Marco, se non sbaglio. Sì, Frigerio. Marco Frigerio, il numero 21, eh, perché no? Francesco Corsinelli, la scelta del 21, tu nella vecchia numerazione, quella che anche l'opinion leader ben ricorda, lui sarebbe stato un 2, no, opinion leader? Sì, un 2. A parte che il 2 poi se l'è preso Papini, ma perché non è scelto il 2 se è scelto il 21? Ma perché comunque sia il 21, a parte che sono nato il 21, quindi già mi piaceva prescindere, il 21 novembre. E poi, secondo me, il 3 è un numero perfetto, poi il 3, diciamo, è l'anniversario della mia compagna e di io che siamo messi insieme, quindi... Ah beh, allora avevi più di un motivo. C'era più di un motivo, sì, sì, per prendere. E tu nel novembre sei uno scorpione? Sì, sì. Ah, ho capito. L'ultimo giorno di novembre. Ma ci credi in quelle cose di scorpione, sagittario? Ce l'hai le caratteristiche? Sì, mi piace, sì, sì, ci credo un po' queste cose. Ce l'hai? Quindi caratteristiche? Sono metà e metà un po'... non sono vendicativo, magari, sono più buono come il sagittario, ecco. Ah, ho capito. Tu non te l'ho mai chiesto, opinione, che segno sei? Ora non mi fare le battute. Ovviamente è il migliore. No, va bene. Volevo vedere se... Cioè? Gemelli. Ah, e chi te l'ha detto che è il migliore? Cioè, te stasera hai detto, da neo specialista dell'oroscopo, che quello dei gemelli è il signor migliore. È il migliore perché siamo... noi dei gemelli possono... sono gemelli, ascendente gemelli, quindi il top di gamma. Siamo... non c'è niente da fare, non ci batte nessuno. Alla faccia della modese. Eh sì. Stasera poi ti interrogo sul Modena. Slancio di presunzione. Ti interrogo sul Modena, vediamo se sei preparato. Io di Modena ho solo un ricordo, mi basta quello e avanza. Ah, va bene. O solo quello. Poi l'Alzheimer si sta un po' sessando di Modena. Ah, ma non è vero, sei sempre lucidissimo. Allora, Francesco, tornate a te, poi vediamo le immagini di questo 2 a 2 con il teramo. Lucchese, poi hai fatto il settore giovanile del Genova. Sì, sì, sono 4 anni a Genova, ho passato un bel percorso, ma mi ha cresciuto tanto, comunque sia stare lontano da casa. Mi ha fatto crescere prima. Perché eri piccolo? Manti anni avevi quando sei andato? Eh, 14. E sei andato via di casa? Sì, sì. Ma sai forma, te lo posso dire per esperienza personale. Andare a casa, andare via di casa a giovani è formativo. Sì, infatti magari i primi mesi sono un po' complicati, non fare lontananza di famiglie e amici. Avevi nostalgia? Ha influito, però poi dopo, anzi, mi ha fatto bene comunque sia il crescere come persone, come calciatore. Avevi nostalgia? Sì, i primi mesi, sì. I primi mesi è da magone in gola, vero? Eh, soprattutto quando avevano i miei era dura poi lasciarle andare. Eh, me lo immagino. Tu che sei di Viareggio, del campo d'aviazione? Campo d'aviazione, sì, sì. Ah, capito. Però quando sono cresciuto nel quartiere Terminetto, dove avevo casa con i miei, adesso lo sono trasferiti. Poi dopo sei andato, hai cominciato, diciamo, chiamiamole con le prime squadre, sei stato al Ponte d'Era del direttore generale Paolo Giovannini, poi leggo il Piacenza, il Bari, anche te, come il tuo amico Nannini, no? Sì, sì. Però non vi siete incrociati? No, no, non ci siamo incrociati perché lui, quando, diciamo, facevamo il ritiro poi andava via, invece, è rimasto lì un anno e mezzo. Quindi non abbiamo avuto modo di giocare già insieme, però già lo conoscevo, nel senso sia come giocatore che come persona. Poi a gennaio di quest'anno, del 2021, sei andato a Novara, dove in pratica, leggo qui, 16 presenze e un gol. Di fatto, considerando che era il girone di ritorno, hai giocato sempre? Sì, sì, ho giocato sempre. Mi ha aiutato, diciamo, nei primi sei mesi, nel secondo anno di Bari, sei mesi con Auteri, non ho giocato molto, ho fatto poche presenze, ho bisogno di ritrovare me stesso e, fortunatamente, a Novara ho giocato tutte le partite, quindi ho potuto dimostrare il mio potenziale, che magari da un anno e mezzo non riuscivo a dimostrare in pieno, ecco. Senti, dopo quel che è successo successivamente, in quell'estate mi permetto di dire, un po' folle per il Novara, anche se sei stato poco, comunque ci sei stato sei mesi, ti è dispiaciuto? Sì, parecchio, perché comunque si ha una storia dietro, comunque si è a Novara e mi dispiace anche vedere male uno scudetto nuovo che non gli appartiene, o comunque lo meno. È brutto cancellare una storia e creare una nuova, è sempre bello, diciamo, attaccarsi alle radici di una città, di una maglia, di uno stemma. Immagino che ti sia dispiaciuto, anche se ci sei stato solo pochi mesi. Sì, 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 mi è dispiaciuto. Viniamo alla partita col Teramo, caro Francesco, è 2-2. 2-2 adesso dalla regia centrale, Matteo Vedini, che saluto, così come qui invece nella sala ospitale, che abbiamo Avramo Rossi e il supporto preziosissimo di Simone Andricetti, comincia a farci vedere delle immagini. Una partita che prima, diciamo, si è un po', anzi, si è quasi subito complicata per quel gol su punizione. Poi l'avete rimessa a posto e poi nel finale, purtroppo, è arrivato questo gol che ha un po' gelato tutti. Perché poi, visto a fine partita, c'era un silenzio, opinion leader, irreale sul porterio. Vorrei sentire la tua valutazione e poi sentiamo anche, naturalmente, Giulio. Ma, secondo il mio punto di vista, abbiamo fatto una buona gara. Nel senso che comunque subire un gol su punizione dopo tre minuti non è facile avere una reazione. E, secondo me, c'è la povera. Sono una squadra che crede nelle proprie potenzialità. Come, secondo me, abbiamo reagito alla grande, direi. È entrato quel pallone? Tu dovresti trovare in quel momento? Sì, ero vicino alla barriera, quindi sì, si è entrato. È entrato, è uscito. Dopo si è acceso il mischione, però è picchiato sotto la traversa. Sì, poi è andato volto. Non c'è il gol technology, però. No, però si è notato che era gol. E niente, abbiamo avuto una grande reazione, secondo me. Comunque sia, siamo andati sull'1-1 e poi sull'2-1 con i clou. Poi, purtroppo, dal mio punto di vista, siamo abbassati un po' presto. Avete smesso forse un po' troppo presto di giocare, nel senso che... Sì, magari dalla stanchezza, magari avendo avuto due parti sulle gambe, ci può stare che sia abbassato un po' presto, però non deve succedere. Perché comunque sia, ci può stare di abbassarsi gli ultimi 5-6 minuti per portare a casa il risultato. Ma non dici a 20 minuti dalla fine. 20 minuti dalla fine non è semplice. Purtroppo è successo questo episodio e sicuramente il gol che abbiamo subito, il secondo gol del 2-2, potevamo evitarlo. Sono disattenzioni che sicuramente possiamo migliorare. Quindi sono fiducioso, come siamo fiduciosi tutti noi, i miei compagni, il Miss e tutti. Vero che sul 2-1, vabbè, Semprini era un po' defilato, ha avuto un buon pallone. Poi sul 2-2, Belloni, se l'era anche aggiustata bene, poi il tiro gli è venuto, come si dice, no? Smorsato. Un po' strozzato. Sì, sì. Vabbè, comunque, no, qualcuno Giulio sosteneva anche, al di là che poi voglio sentire la tua su questo 2-2, che il calo finale possa dipendere dal fatto che comunque questi ragazzi, questa squadra, per i motivi che sappiamo, ha iniziato in ritardo rispetto agli altri. E ora, magari, queste due o tre settimane ancora puoi pagarle nel contesto di questo mini ciclo di ferro che c'è stato con poche partite così ravvicinate a distanza di 72 ore, perché da Ancona al Teramo sono passate 72 ore. Sì, sicuramente la Lucchese non è al top della condizione, questo è ovvio, anche perché, appunto, le tre settimane di ritardo rispetto... Stiamo parlando di condizione fisica adesso. Sì, sì, condizione fisica, assolutamente. Questo l'abbiamo detto sempre, anche nelle puntate precedenti. Credo che, diciamo, il fatto che la Lucchese abbia rinculato, come si dice in gergo, sia di peso tanto anche dall'aver perso prima Eclou in mezzo al campo e poi Bellic al centro della difesa, perché poi psicologicamente magari la squadra si può rendere conto anche che magari appunto è il miglior centrocampista, perché stava giocando una partita, diciamo, splendida Eclou, perché lui... Infarcita anche dal gol del 2-1. Infarcita anche dal gol del 2-1, magari psicologicamente la squadra così ha rinculato anche per questo motivo qui, oltre che per un motivo fisico. Diciamo che... Forse la Lucchese ha sbagliato a non spingere ulteriormente sul 2-1, perché loro mi sembravano abbastanza... anche messi male in campo in certi momenti, lasciavano parecchi spazi dietro, quindi poi si raffidavano solo ed esclusivamente a quei lancioni... Però erano quasi, non dico rassegnati, perché dire rassegnati è brutto, però forse la cominciavano a dare un po' persa la partita. Sì, sì, e poi chiaramente loro hanno un po' di problemi, perché insomma l'allenatore era sulla graticola, avevano uno squalificato, hanno cercato di buttare la palla, diciamo, in avanti, perché loro come prendevano la palla a difensori, scavalcavano il centro campo e la tiravano lassù, dove c'era quel centro avanti che è anche stato abbastanza bravo, perché... Che sembrava non avessero molte idee. No, non avevano molte idee. Invece dopo... Dopo c'è stata questa azione, probabilmente viziata anche da un fallo, su Nanni mi sembra... Sì, questo è vero, è vero rimarcare. Purtroppo io ancora una volta, Giulio scusa, dovrei fare il solito discorso, delle immagini che purtroppo non produciamo noi, altrimenti stasera vi avremmo proposto sicuramente la premiazione prima della partita del dottor Adolfo Tambellini, sicuramente vi avremmo proposto un bello spaccato sul lato, sullo spicchio alla sinistra rispetto a chi guarda dalla tribuna centrale con tutti i ragazzi del settore giovanile e credo ci fossero anche le ragazze della squadra femminile e vi avremmo riproposto, ora indipendentemente dal fatto che non vogliamo con questo giustificare nulla e nessuno, però su Nanni mi è parso che l'azione che poi... c'è stato il lancio da cui Cucurullo, te lo ricordi questo nome, ha fatto 2-2, mi sembrava evidentemente viziata da un fallo sul centroavanti della Lucchese che inizialmente era in panchina. Poi avete già detto tutto voi, ha avuto la Lucchese, ha avuto anche la palla del 3-2 con Belloni, però l'aveva sul piede sbagliato perché ha calciato di destro e Belloni è tutto sinistro, quindi però anch'io come Francesco sono molto fiducioso, assolutamente tranquillo e sereno perché credo che questa squadra appena troverà la quadratura del cerchio perché vedo anche che il mister fa parecchi esperimenti. Il mister che sabato a Nuodena rientra anche in panchina. E' vero che fa parecchi esperimenti, anche questi legati al fatto che non l'ha potuti fare in precampionato ovviamente e quindi credo che appena troverà un po' la quadratura del cerchio, appena crescerà la condizione di Eclou, dei vari Picchi, perché ci sono dei giocatori come Picchi. Picchi ricordiamo che era fuori, Picchi mi sembra che a centrocampo può diventare un giocatore molto importante. Assolutamente, assolutamente. La cosa peggiore anche da parte di chi vi parla e di chi deve fare anche una critica giornalistica è cercare alibi, alibi non vanno mai cercati. Loro per primi credo non li cercheranno. Comunque voglio dire, questo periodo iniziale del campionato e poi torniamo e ripartiamo dal fatto che il signor Corsinelli ha fatto anche un gol. Tra l'altro anche un bel gol ricordo, o sbaglio? Sì, sì, col Cesano. Sì, ora lo vediamo tra poco. No, no, vabbè, torniamo tra poco perché ci sono, vedete i risultati? Tutte le domeniche, tutti i turni c'è qualche risultato un po', eh? E vuol dire che molte squadre stanno cercando ancora il giusto assetto. Torniamo tra poco, poi cominciamo a leggere anche i vostri messaggi. A tra poco. 21 e 20, ancora dallo stadio Porta Elisa in compagnia di Francesco Corsinelli. Ti definisci un difensore, Francesco? Ma sì, un difensore un po'... La sensazione che spinge molto, che ha molta gamba, molta corsa. Sì, sì, un difensore un po' più offensivo, ecco. Sì, sì, un po' più offensivo perché mi piace molto spingere, però ovvio che nel momento del bisogno io sono un difensore e devo fare il mio compito, quindi ci mancherebbe altro. Però cerco di dare il supporto anche in attacco. E lo hai fatto, intanto poi ricordo l'Opinion Leader, Giulio Castagnoli, sempre con noi. La fama dell'Opinion Leader ti è raggiunta? L'ho visto, l'ho visto, c'è lui. Ma me l'hai detto con un tono che non ti ha molto convinto in alcune sue affermazioni. Non ti ha molto convinto, no? No, magari io ti ho convinto ancora meno. Io lui, te l'ho detto dove l'ho visto, te lo devo dire dove l'ho visto, l'opinione, l'opinionista. Sì. Al Canna di Gareggio l'ho visto. Ah, questa vi state messi d'accordo prima, eh? No, assolutamente. Ah, vi state messi d'accordo prima. Assolutamente. Comunque simpatico siparietto, devo dire. No, io, Francesco, confermi che su questa cosa proprio... Mi sembra di aver visto al Canna di Gareggio. Sì, naturalissimo. Sì, ti hai fatto un gol. Hai fatto un gol, devo dire, anche molto bello, perché sei andato proprio... in modo quasi in tuffo... Vabbè, tu sei di Gareggio, quindi tuffi penso tenendo... Alla Bettega. Sei andato giù basso, no? Si è quasi, quello che si direbbe nei tuffi, si è quasi carpiato, no? Sul cross di chi era? Di Semprini. Di Semprini, eh. Un gol molto bello, che vi aveva portato anche in mattaggio contro il Cesena, che sarà, come dice l'opinion leader, cinico, opportunista, però, insomma, è una squadra molto... Ma sicuramente è una squadra che ha dei giocatori forti, obiettivi di guarda. E' quello che hai visto finora, come l'etichetteresti? Ma a me è di alta classifica, Cesena, secondo il mio punto di vista. La migliore di quelle che avete affrontato, secondo te? Ma secondo me, ovviamente, nessuno mi ha stupito di quelle che abbiamo affrontato. No, perché secondo me, come se ne parlava prima... Lo stesso Ancona è stato molto giusto. Non vedo nessuno migliore, cioè nel senso, ad oggi. Poi magari... Cioè che va proprio messo sotto? Sì, secondo me no. Nel senso, magari l'unica parte dove abbiamo un po' sbagliato è Intella, dove siamo stati un po' timidi nel gioco, però del resto, delle parti non mi improverono niente. Al di là di errori. Vedo che anche l'Intella, quello che dicevamo prima, insomma, alterna buoni risultati. Sì, infatti, infatti, per quello gli sto dicendo che non mi ha impressionato nessuno, per questo motivo qua. Ancona, poi, vabbè, avete perso una partita un po' particolare, perché anche lì, insomma, avete spesso tenuto il pallino del gioco, che però mi insegni, non è sufficiente. Il gol contro il Cesena, invece, ho visto poi dalla corsa che hai fatto, poi l'ha fatta martedì a club, tipo la tua, ti ha dato molta soddisfazione, insomma, non è che poi in carriera hai fatto tantissimi gol, no? No, no, sicuramente hai dato soddisfazione, perché comunque c'erano anche i miei genitori, poi la mia ragazza, mio nipote, poi era comunque sia il gol del vantaggio, il primo calco con la madera lucchese, quindi è stato bello, peccato per quell'amnesia di quei 3-4 minuti. Ma neanche, io prima sia stato i due minuti, forse, se no. Che abbiamo avuto generica e, vedi, poi non si può parlare del passato, quindi non è inutile tornare su argomenti che non è... Nel senso di risultati e cose varie, pensiamo solo... Ormai sono andati, quelli sono andati... Quelli sono archiviati e basta, si deve solo apprendere gli errori che facciamo e punterà a migliorare e basta. Te li ricordi? E poi c'è sempre quello che telefona. Certo. L'ho appena detto, sms, whatsapp, e qui c'è qualcuno che telefona. Non prendiamo telefonate. Opinion leader, cosa vuoi aggiungere? Poi cominciamo a leggere messaggi. Ma che è? Mi hai detto te lo ricordi? Cosa mi devo ricordare? No, te lo ricordi, ti interrogo sul Modena, quello sì. Ah no, ma sul Modena te lo ricordo solo... Sei preparato, sei preparatissimo. Assolutamente no. Ti faccio subito, quanti anni sono che Modena e Lucchese non si affrontano? Ma penso saranno 19 anni, 18 anni. Noi più tardi, e Matteo Pedini dalla regia centrale lo sa, un po' pillole, perché poi domani faremo servizio di presentazione della partita Modena-Lucchese e avremo un po' tutti i riflessi filmati dell'ultimo Modena-Lucchese. Però stasera siamo in grado di anticipare uno dei gol che caratterizzarono quella partita. Poi vi daremo proprio una data esatta. Ci sei andato vicinissimo, segno che sulla Lucchese è preparatissimo, poi non ci sono dubbi. Io comincerò a leggere qualche messaggio però, perché insomma qui ce ne sono già tantissimi. Buonasera, sono Nicola, dopo ancora il termo speravo di eliminare i fantasmi del passato. Sai Francesco, qui come tutti i giovedì sera arriveranno i messaggi di coloro che insomma vedono tutto rosa, vedono perlomeno... Ma posso rispondere? Certo, poi devi rispondere. Poi arriveranno messaggi di quelli che... Sicuramente. ...che vedono tutto cupo. Noi però dobbiamo accettare tutti. Nicola dice, speravo di eliminare i fantasmi del passato, ma temo che mi e ci accompagneranno per tutta la stagione. E lui ci va giù duro, dice difesa imbarazzante, si subiscono reti a difesa schierata. Pagliuca può fare poco, eh no, speriamo di no, è lì apposta Pagliuca. Poi, sono tutti errori individuali, solo Bellic si salva, centrocampo con Bensaia che va al piccolo trotto e si limita a fare il compitino con il solo Sciacca, Sciacca penso sia Eclu, no? Sì. Che canta e porta la croce quando può giocare in attacco sono mollicci. Poi dice, in attacco sono mollicci. Basta vedere come abbiamo subito il secondo gol con il Teramo, palla protetta male e da nanni, correggetemi se sbaglio, sì, forse c'era anche un fallo però, e poi il gol subito, manca una punta come poteva essere Raicevic, che sa fare il reparto da solo in certi frangenti della gara, è vitale avere un elemento di rosa così, però non mi mandate messaggi così lungo, siete un po' più simili. Sperando, e vabbè, poi fai una considerazione adesso che solo se non fosse altro che per Scaramazia non leggo, caro Nicola, però dai, vogliamo rispondere che ti vedo bello tonico, Francesco. tonico perché comunque sia... è giusto, vai. Cioè mi sento, ci sentiamo presi in caldo perché comunque sia buono buono, l'anno scorso ho visto che sono difficili, comunque sia molto difficile soprattutto per i ragazzi, non penso che siamo rimasti bene di come è andata la stagione, quindi non li conosco, non voglio prendere neanche... Coletta, Papini, Panati sono rimasti, forse... Loro sì, loro sì, ovvio, se ne avranno mai parlato. Sicuramente se lo sono... cioè se lo sentono comunque sia addosso a questa responsabilità dell'anno scorso, però sono dell'idea che ogni anno, ogni stagione ha la sua storia, ha il suo percorso e sono dell'idea che ovvio che i tifosi come giusto che sia vedono e dicono l'opinione, però io se posso dire una cosa è che quest'anno per quanto riguarda abbiamo un gruppo coeso e giocatori forti e secondo me possiamo fare molto bene, al di là che comunque sia non siamo penso messi male in classi, comunque siamo metà classi. No, no, io penso Matteo Pedrini ce la può riproponare, no, la classifica insomma... E spero, ovvio, che potremmo avere qualche punto più, sono d'accordo, io sono difensore e sono il primo che dico che abbiamo preso... Se avevi 9 punti stasera... Io sono difensore e sono il primo a dire che abbiamo preso troppi gol e mi sento responsabile di questa cosa. È giusto che infatti miglioreremo su questa cosa e spero che domenica non saranno già in parecchi che miglioreremo su questa cosa. Troppo critico, Nicola? Ma sai, ha detto bene Francesco, tifosi ognuno vede il calcio con i propri occhi. Io sono un inguaribile ottimista, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, magari un altro è più pessimista e vedo sempre il bicchiere mezzo vuoto. Però, ora, fare paragoni con la stagione scorsa mi sembra... Mi sembra... Inopportuno. Inopportuno. Io mi riallaccio qui perché dice ci saluta e dice buonasera carissimi, vuole fare alcune considerazioni e poi ha scritto il... La Divina Commedia. È Mario, no, è Mario Capello e quindi Mario dice abbiamo una squadra che rispetto alle altre ha un mese in meno di preparazione. Questo, vabbè, Mario l'abbiamo già sottolineato prima e quindi la tua considerazione mi sembra abbastanza giusta. Quindi mi sembra inutile che i giocatori debbano correre alla Garibaldina finché hanno fiato in corpo per poi calare vistosamente nel finale. Quindi dice dice Mario forse dovreste non lo so distribuire meglio le energie ma mi sa Francesco che se inizia la chetichella poi magari dopo mezz'ora ti ritrovi anche qui a questi livelli qui non sarà un grande livello quello che volete la Serie C ma sul piano fisico vedo squadre che corrono tutte. No, no, sicuramente. No, no, ma che noi... Come si fa a dire? Ovvio che magari abbiamo avuto meno preparazione però questo come hai detto te prima non ci sono non bisogna avere alibi di queste cose nel senso bisogna prendersi responsabilità e magari pedalare di più in campo cioè questo lo sto dicendo non bisogna avere alibi è brutto avere alibi nel calcio almeno che come un episodio come il Col Cesena che dici ha sbagliato l'arbitro quello è un discorso ma di noi stessi non bisogna avere alibi. Qui invece sulla seconda considerazione che già riassumo voglio far intervenire Giulio Mario dice non lo convince il fatto dell'alternanza dei due portieri Dancona ha giocato Cucchietti Martedì ha giocato Coletta Mario dice che alla fine entrambi rischiano di perdere sicurezza cioè secondo lui ci vorrebbe uno fa il titolare e si va avanti con quello per un po' ora io chiaramente queste sono scelte di Pagliuca ma io ti dico la verità però sul fatto che il portiere deve essere quello io concordo con Mario poi sceglierà Pagliuca al di là cioè il discorso del portiere può essere anche è così riproposto anche per quanto riguarda gli altri ruoli dei giocatori perché abbiamo visto se ne parlava prima dell'inizio della trasmissione insomma Francesco per esempio non ha giocato Ancona ha giocato Papini sì perché Pagliuca Papini lo vede mi sembra come esterno adesso magari con altre caratteristiche rispetto a lui forse più difensivo sì cioè è chiaro che anche Pagliuca è un po' sta facendo un po' di esperimenti è normale perché questo mese qui come dice strana dirsi perché siamo in pieno campionato eh lo so però purtroppo chi ha potuto farle prima gli esperimenti li ha fatti la Lucchese non ha potuto li deve fare in corso d'opera e credo che anche il discorso Cucchietti Coletta rientri in questa logica però quello è un ruolo un po' diverso eh lo so però capito vedremo quello che succede io credo io non lo so poi magari penso che Modena continuerà a giocare purtroppo diciamo anche continuerà a giocare Coletta secondo me però io diciamo anche una verità purtroppo hanno fatto degli errori tutti e due Cucchietti in un'unica partita che ha giocato eh ma infatti è la considerazione che fa Mario e vabbè purtroppo e poi niente su questo però Mario lui dice fedato non si discute sul resto dell'attacco però io qui Mario non sono d'accordo è vero che Semprini ha fatto tre gol uno l'ha fatto Nanni però a me questi attaccanti sinceramente poi non aspetta a me dirlo non mi dispiacciono cioè poi magari mi sbaglierò non lo so Giulio tu che dici? ma poi abbiamo sempre da vedere Babbi perché Babbi non ha mai giocato ma poi insomma è un discorso vecchio è un discorso dell'estate questo qui se ti ricordi perché in quella trasmissione che abbiamo fatto ad agosto insomma o la prima di campionato non mi ricordo l'abbiamo fatta una ad agosto anche questa il discorso è questo il modulo di Pagliuca non prevede un attaccante boa un attaccante statico lassù davanti però come abbiamo visto anche dai numeri che dissi anche la settimana scorsa gli attaccanti della Lucchese l'anno che Pagliuca era qui che vinse il campionato fecero 38 reti distribuiti su 4-5 giocatori fondamentalmente e fra difensori e attaccanti ne fecero 34 distribuiti fra altre tanti 4-5 giocatori quindi probabilmente Corsinelli farà altri gol probabilmente li farà Nannini probabilmente li farà altri Eclu li farà Benzaia li farà Frigerio li faranno gli attaccanti cioè quando giochi con ti dici maggiore distribuzione dei gol assolutamente però Nanni ha quel che ho visto io però non c'entra avanti sia per struttura fisica però non c'entra avanti parecchio di movimento non è il classico centro antistatico no 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 ma quello sicuramente leggiamo l'ultimo e poi dobbiamo dare pubblicità buonasera c'è delusione per i due punti regalati le partite vanno chiuse dice questo nostro telespettatore caro Francesco secondo me la squadra sente la mancanza di Pagliuca sì che anche martedì era in tribù ma ora davvero io mi voglio non voglio rivolgere nessun appello a nessuno però veramente mi auguro che ora da Modena poi tutte le sabati le domeniche quando la Lucchese giocherà in panchina ci sia l'allenatore il suo allenatore perché poi possiamo dire quello che vogliamo ma la cosa non esistono controprove non è detto che se in panchina c'era Pagliuca la Lucchese avesse stasera 3-4-5 punti in più magari ne aveva anche meno non lo so però è giusto che l'allenatore su questo penso siamo tutti d'accordo no Giulio debba stare in panchina perché il suo posto è quello quindi davvero secondo me dice sente la mancanza di Pagliuca aggiunge che poi i tifosi possono giustamente fare anche le loro critiche dice è pagato per stare in panchina un incoraggiamento per Francesco che saluto è una domanda però mi rispondi dopo la pubblicità intanto te la faccio cosa significa giocare senza Pagliuca in panchina e poi aggiunge testa a Modena impegno difficile comunque tutti uniti per la Pantera due cuoricini uno rosso e uno nero Luca della Gradinata allora Luca dopo la pubblicità Francesco Corsinelli ti risponde il Modena tra l'altro allenato dal signor Attilio Tesser degli ex e lì vediamo se l'opinion leader dopo è preparato tra poco allora eccoci tornati sono le 21 e 36 nel frattempo voglio leggervi questo comunicato che è del gruppo coi bravi ragazzi dice il gruppo coi bravi ragazzi comunica che da sabato 2 ottobre quindi da da sabato da dopodomani lo potrete ritrovare finalmente lì al proprio posto quel posto che ci manca da quel lontano 23 febbraio 2020 quindi penso si riferiscono da quando scoppiò la pandemia dopo varie riunioni interne a distanza di circa un mese dalla nostra ultima presa di posizione siamo arrivati a questa decisione vivere la lotta rischio la tenace noi vogliamo vivere secondo questo ideale vogliamo vivere da ultras pronti di nuovo a combattere per lei e lei questo caso credo che sia la lucchese per quella maglia che è sola non la possiamo lasciare la nostra protesta mi si spenge ogni tanto precisiamo era rivolta all'imposizione di provvedimenti che non ci avrebbero permesso di vivere la curva dicono a modo nostro provvedimenti che però al momento non vediamo attuati in nessuno stadio d'Italia quindi fino a quando sarà possibile saremo presenti alla nostra maniera non vogliamo trascorrere un altro anno senza poter fare niente in questo caso vuol dire senza poter sostenere la nostra lucchese ma vogliamo tornare a farvi respirare quell'area da stadio che a tutti manca quei bravi ragazzi Giulio abbiamo visto in parte la curva è tornata è tornata contro l'Olby è tornata anche martedì contro qui si perdono i giorni perché giocare di sabato contro il Teramo come leggi questo comunicato ma intanto sono felicissimo di questa cosa perché chiaramente abbiamo già visto nelle ultime due partite la curva dà una grossa mano ai ragazzi perché anche contro l'Olby si sentono non sono tantissimi ma si sentono poi rientrano anche loro poi spero che rientreranno tutti a breve perché insomma la curva a Lucca è importante come sappiamo e quindi in uno stadio dove purtroppo ancora oggi sono poche le presenze la spinta nella curva è fondamentale quindi bravi quei bravi ragazzi e spero che poi rientrino tutti piano piano sì perché poi Francesco poi devi rispondere sempre alla domanda di più la curva quando tornerà nella sua integrità nella sua completezza la sentite voi come trascinamento ma la sentono anche gli avversari sì sì ma infatti noi già adesso che ci stanno sostenendo ci dà una carica immensa poi più siamo e più ci aiutano e più possiamo lottare per grandi cose tutti insieme quello che conta è di portare entusiasmo e cacciare via come i fantasmi dell'anno scorso di portare entusiasmo in campo di cui parlava l'amico di prima senti cosa rispondi a Luca che ti chiedeva cosa significa giocare senza pagliuca in panchina e su sei partite l'avete fatto cinque volte ma sicuramente quando c'è il miss in panchina magari è anche più facile avere indicazioni diciamo anche sul campo ecco comunque sia c'è il suo staff che è ovvio che sono preparati e che il mister comunica sicuramente tutto nel senso durante settimana di cosa dover fare come dover preparare la partita però il suo sostegno è disponibile in campo quando non c'è si sente ecco però te lo dà prima della partita te lo dà durante settimana lui è uno che motiva molto e ci carica alla grande direi ecco fermo restando che questo è un avviso non avviso a navigare ma è una cosa che voglio dire proprio alla dirigenza della Lucchese noi speriamo vogliamo ma non io e Giulio Castagnoli i tifosi sperano di avere presto a Curvo aver seguito Pagliuca no detto questo te l'aspettavi così Pagliuca come te l'avevano descritto un personaggio un allenatore molto capace ma anche vulcanico qualche volta fuori dalle righe è come te l'aspettavi o ti ha sorpreso qualcosa no mi ha sorpreso molto mi ha sorpreso molto perché comunque sia a livello emotivo e a livello di gioco allora l'emotivo secondo me è uno degli allenatori che mi carica di più a livello personale quando devo entrare in campo e fare la guerra in quei 95 90 minuti che sia tu ne hai già avuti anche se sei giovane non l'abbiamo ricordato sei del 97 quindi hai 24 anni come motiva lui veramente forse non ho trovato nessuno è livello di gioco mi piace perché ha le sue idee con qualche sicuramente con qualche cambiamento a volte che però ci piace perché ci fa giocare a calcio però non è che ci fa giocare a calcio da presuntuosi se non mi fai intendere comunque c'è da non è un fondamentalista perché nel corso di questo campionato però penso che si sia visto il gioco che abbiamo nel corso della stessa partita avete anche cambiato spesso il modulo passando anche a tre dietro quando c'è stata l'occasione avete cambiato no mi ha impressionato io non l'ho mai avuto prima non l'ho conosciuto il mio cugino che è di Luca Remediche comunque si l'ha avuto me l'ha parlato però mi ha impressionato veramente tanto allora per Corsinelli ti auguro di fare un gol al Modena forse hanno visto quello che hai fatto al Cesena però da lui non è che potete pretendere perché no però so qualche gol dai e regalarci la vittoria Forza Lucca sempre uniti per la Pantera Mirko della Gradinata quindi sicuramente allora volevo sapere qui Giulio si torna al discorso abbiamo fatto del ritorno della curva ma anche di quello che si sta discutendo in questi giorni a livello nazionale di riportare un po' alla volta adesso siamo al 50 ma al 75 addirittura al 100% speriamo dice questo nostro amico volevo sapere se è possibile chiedere una deroga per l'ampliamento della capienza del Porta Elisa per le prossime partite ma non credo che dipenda Giulio dalla Lucchese probabilmente dipenderà da quello che deciderà anche il governo il tema di covid di apertura credo che vada nel prossimo consiglio dei ministri quindi dovrebbe essere roba di pochi giorni quindi tutte le tutte le indicazioni portano ad almeno al 75% se non al 100% anche perché siamo rimasti il fanalino di coda perché in quasi tutta Europa no e vabbè ora perché c'è da capire chi sono i furbi sì quello l'ha detto l'ho detto tutto l'ho detto tutto no no noi abbiamo fatto una promessa ma diciamo che non avremmo più parlato perché ci hanno duramente rimproverato di metterci a parlare di altre cose va bene però si può dire che in Germania si stanno chiedendo se sono fuori di testa loro è Germania o se siamo indietro noi probabilmente per certe cose hanno sempre dimostrato di essere migliori di noi per tante altre cose noi abbiamo dimostrato di essere migliori di loro io la vedo così poi Francesco lo so che adesso però non mi essere diplomatico anche perché il Via Regino non è diplomatico no è vero o no il Via Regino il Via Regino mi piace perché essendo gente di mare un po' come il Livornese è gente molto aperta e lo stai dimostrando anche stasera che obiettivi ha quest'anno la Lucchese? Forza Lucca sempre sicuramente il primo obiettivo è la salvezza è ovvio però io credo per quella squadra che siamo e tutto si può puntare più in alto però ad oggi ci fissiamo un obiettivo che sarebbe la salvezza poi in avanti si guarderà cosa succederà buonasera peccato per il pareggio a partita quasi finita beh sì mancavano era il trentottesimo il secondo tempo poi ci mettiamo cinque minuti di recupero in realtà c'erano sempre tredici due punti persi comunque quest'anno siete una squadra che si gioca le partite fino alla fine anche ad Ancona il risultato è stato forse troppo penalizzante per voi cordiali saluti Massimo da Pisa Massimo da Pisa quest'anno a Lucca che ha fatto gola anche a Buffon no? vabbè l'hai presente Francesco questo Lucca del Pisa? sì ci ho giocato contro quando era a Bari lui era a Palermo addirittura ci fece cosa su punizione a noi lo avevi visto così forte sì si vedeva che c'era grande qualità poi non mi aspettavo che esplodesse così tanto subito in Serie B però complimenti a lui bravo sentivo in queste mattinate ascoltando la radio varrebbe già 10 milioni di euro e pratica diciamo le tre grandi del nostro calcio da sempre sappiamo quali sono sarebbero interessate a lui e addirittura aggiungo questo farà piacere al nostro amico Massimo da Pisa lo stesso Mancini starebbe pensando di chiamarlo beh non sarebbe una cosa clamorosa che Mancini ha chiamato Zaniolo quando Zaniolo era ancora un signor nessuno quasi attenzione perché da Pisa un tifoso del Pisa che ci ho parlato perché sai che ho amici anche a Pisa mi ha detto che che Lucca non è del Pisa ufficialmente cioè ufficialmente risulta essere del Pisa è prestito no Lucca l'ha già comprato la Juventus ah quindi quindi siccome c'è Chiellini che è il direttore sportivo del Pisa fratello di Giorgio fratello di Giorgio e a Pisa ti ripeto questo insomma dicono che è già questo tifoso no no è sempre stato della Juventus è sempre stato anche se poi viene dal settore giovanile del Torino sì sì no vabbè ma diciamo l'operazione l'ha fatta la Juventus Massimo l'abbiamo fatto per te per dati no ripeto goditelo quest'anno è un amico tifoso del Pisa che c'è abbastanza dentro quindi se me l'ha detto ci sarà un fondo di verità penso qui come mi immaginavo sono un po' sono un po' severi tifosi anche un po' arrabbiati con Pagliuca che io ti posso garantire Francesco Pagliuca è amato a Lucca lo sa anche Guido se ci sta seguendo Pagliuca no Pignoli è amato ma se non altro per quella famosa no 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 vabbè se non fosse altro che per quello però vabbè come diceva quello forse solo per convenienza visto che si mettono in movimento tanti muscoli per lo meno per convenienza sorridi no però Pagliuca è amato per la famosa vittoria di Correggio e quindi su questo opinion leader assodato Pagliuca è un allenatore amato come probabilmente amato Favarin come ce ne sono altri però adesso qualche tifoso con Pagliuca è arrabbiato e ci dicono una società che si rispetti forse sono più arrabbiati una società che si rispetti un allenatore che su sei partite ha fatto cinque giornate di squalifica l'avrebbe già cacciato allora io non so Giulio se vuoi dire qualcosa io però vi dico una cosa la Lucchese quest'anno dopo quello che è successo l'anno scorso e sappiamo tutti quello che è successo ha preso la squadra come era giusto fosse di sana pianta e l'ha rivoltata abbiamo ricordato Coletta Papini e Panati Panati stop con una squadra in pratica ricostruita di sana pianta io dico al tifoso che è arrabbiato che poi se uno si estranea dal fare il giornalista da fare l'opinionista e parla da semplice tifoso o simpatizzante della Lucchese è logico che si è arrabbiato perché dici ma come un allenatore mi salta cinque partite su sei è da record del mondo non esiste però la società siccome ho parlato con qualcuno prima di dire queste cose la società ha ricostruito di sana pianta la Lucchese la Lucchese è ripartita proprio dalla base quest'anno per fare un campionato possibilmente ben diverso da quello dell'anno scorso allora tifosi arrabbiati capirete che l'Ippelletti viene la voglia di dire accidenti ma questo poi uno ci ragiona ci riflette e non lo fa logicamente perché c'è grande fiducia in Guido Pagliuca che si sa che Guido Pagliuca ce lo disse Bruno Russo qualche settimana fa è un allenatore veramente coi fiocchi e contro fiocchi Guido Pagliuca sa perché questo glielo ho detto in tempi non sospetti di persona che se riuscisse a smussare gli angoli del suo carattere potrebbe avere visto che è ancora relativamente giovane altre aspirazioni sappiamo tutti queste cose quindi non era proprio il momento di arrivare a tali a tali soluzioni estreme Giulio poi dobbiamo andare avanti no è chiaro che è chiaro che in questo caso Guido Pagliuca deve aiutare Guido Pagliuca a non eccedere questo mi sembra evidente è chiaro che tutti i bonus o quasi sarei già giocati mi sembra evidente non è che si può pensare che su sei partite ne salti 5 su 12 ne salti 10 o su 18 ne salti 15 quindi Guido Pagliuca si deve assolutamente così camomilizzare insomma dipende da camomila in sostanza e quindi tranquillizzare e quindi chiaramente la società sta facendo diciamo scudo intorno a lui lo sta proteggendo come disse anche Bruno Russo perché ha fiducia in questo allenatore il progetto è partito con Guido Pagliuca e in questo momento qui deve assolutamente andare avanti con Guido Pagliuca poi qui arriva un messaggio addirittura due volte l'ho mandato però vabbè lo leggo Castagnoli numero 1 Francesco succede no? a proposito dimmi un po' visto che fra un paio di minuti dobbiamo andare in pubblicità tu sei di Viareggio questo periodo sai che qui ci sono dei colleghi anche qui stasera che domenica scorsa si sono letteralmente inzuppati per il carnevale essendo Viareggino immagino che avrà una grande passione per il carnevale sì sì il carnevale mi piace un sacco però purtroppo cioè purtroppo obiettivamente parlando da un po' che non ci vale comunque sia con le partite col calcio e tutto allora tu hai questo impegno però ovvio che se dovesse mai capitare di ritornarci sarà più che volentieri che come sia è una cosa bella che facciamo a Viareggio anche a livello forse non ti dico mondiale ma come sia conosciuto quindi ne andiamo fieri e sarebbe bello ripoterlo festeggiare anche senza queste restrizioni del covid speriamo il prima possibile un po' tutto strano in questo periodo perché poi il carnevale a settembre non credo che tu che sei via reggino non si ricorda il carnevale a settembre ma è vero che questo signore lo hai visto al carnevale io l'ho visto era là che guardavo tutti i cari era lui ballava pure quindi vedi il primo arcano poi risolviamo anche quello della bicicletta il primo arcano che eri un frequentatore del carnevale la conferma arriva da Francesco ci sono anche delle foto che mi che testimoniano sul carro proprio ecco va bene dai sul carro attrezzi ero va bene dai ci fermiamo linea Matteo Pedini poi torniamo dobbiamo dire qualcosa anche sulla sulla squadra femminile no Francesco perché queste ragazze tra l'altro fra poco più di una settimana cominceranno il loro campionato e non è mica un campionato da ridere perché sono 30 giornate pensate e ci sono trasferte pensa che la prima trasferta Giulio la giocheranno nell'Interland milanese a Meda e la squadra femminile del Meda si chiama Real Meda quindi quando uno fa una squadra nuova Real eh il Real ci si è Real forte però ora va forte un altro nome poi va da pubblicità secondo me poi anche qui a livello amatoriale Sheriff vedrai che glielo metteranno sai la storia dello Sheriff la conosci no? linea alla regia eccoci tornati allora stasera ora assumo anche io questo tono perché abbiamo qui dei tecnici severissimi è vero o no Giulio? eh no ma è giusto che sia così avevo capito male io avevo cominciato a parlare prima vabbè allora Francesco Corsinelli e Giulio Castagnoli ci sono tanti altri messaggi però Francesco avevamo detto ripartivamo dalle donne in questo caso dalla squadra femminile eh? sì e queste ragazze Matteo Pedini dalla regia centrale credo che abbia anche delle immagini hanno giocato tre partiti ufficiali ovvero quelle del girone di Coppa Italia fase eliminatoria hanno battuto qui allo stadio Porta Risa nella prima partita al Ponte Terra 2 a 0 poi hanno perso in malo modo anche loro a Pistoia 3 a 2 e domenica scorsa hanno giocato a Porcari evidentemente per il fatto che domenica pioveva poi martedì dovete giocare voi che io so che poi loro giocheranno comunque le loro partite in casa che è lo stadio e hanno perso 2 a 1 con l'Arezzo che è una squadra a livello di C femminile molto quotata l'Arezzo ha superato il turno queste tre partite credo siano servite all'allenatore della lucchese femminile che è il nostro amico Nazareno Tarantino per rendersi conto del materiale di disposizione sappiamo che dovrebbe essere eminente l'annuncio di qualche giocatrice anche straniera di livello che quindi accrescerà diciamo la caratura tecnica della squadra è perché oggi siamo a giovedì 30 settembre fra 10 giorni parte il campionato e come dicevo prima non si scherza 30 partite si comincia con la trasserta di Meda naturalmente noi crediamo poi prossimamente in una delle prossime puntate da avere ospite anche queste ragazze o perlomeno qualcuno dello staff della squadra femminile perché è una realtà in cui tutta la società cominciare dal presidente Alessandro Vichi che ce lo confessò qualche tempo fa credono puntano vogliono dare spazio al calcio femminile poi caro Francesco sullo sport al femminile ci sono sempre quelli che hanno molti dubbi uno di questi è qui con noi stasera io dico che lo sport al femminile lo sport al femminile poi è troppo comodo quando ci portano le nostre donne le medaglie alle olimpiadi dire guarda come sono belle guarda come sono brave poi quando parliamo di calcio diciamo eh vabbè calcio femminile parliamo di basket i cultori del basket neanche te lo dico basket femminile no sentiamo la tua non sono d'accordo con me o con i detrattori no no non sono d'accordo di queste disuguaglianze nel senso invece è bello che ci siano queste cose che faccio il campione di calcio che giocano a base tutto deve essere uguale nel senso anzi ti faccio un grandissimo in bocca a lui per l'inizio del campionato spero che vada bene ti ho chiesto prima se conoscevi già qualcuno dei tuoi nannini dei tuoi compagni si conoscevo si conoscevo conoscevo nannini comunque sia ho giocato contro Belloni contro Picchi Benzaia pure ho giocato contro Bellici ho giocato insieme a Novara ce lo conoscevo ho già buone conoscenze quando abbiamo parlato bene di Bellici un po' all'unanimità stasera ti ha fatto piacere si certo perché comunque sia con noi ha giocato non tutte le partite ma comunque si vede che c'è un grande potenziale e penso che lo stia dimostrando un campo ribadiamo Bellici Bellici si si ancora sento dice Bellici no no Bellici a meno io che ho conoscevato Bellici no 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 sì penso allora su Coletta dice questo nostro amico Tiziano su Coletta non si discute i giocatori giocano sotto tono però hanno la scusante che devono trovare la forma quindi si torna a parare la condizione fisica i portieri invece vengono subito messi alla gogna anche lui avrà bisogno di qualche partita per tornare Coletta la Saracinesca o sbaglio l'opinion leader cosa ne pensa grazie ciao da Tiziano ma il portiere l'abbiamo detto prima ruolo tutto particolare chiaramente a livello a livello atletico viene anche da un infortunio non da poco sì 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 insomma anche lui ce lo spiegò bene la sera che venne qui ospite in trasmissione chiaramente deve ritrovare anche lui sicuramente una condizione ma più per l'infortunio penso che per la preparazione perché poi insomma mi dicono che non c'è più Biato come preparatore dei portieri e questa cosa qui secondo me è un problema so che tu avevi fiducia sì 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 è un problema perché secondo me Biato ha fatto crescere dei portieri che sono arrivati qui diciamo che non erano Falcone c'era lui? Falcone c'era lui Falcone è uno di quelli che sta facendo la discreta carriera Albertoni c'era lui quindi ha fatto crescere dei portieri che sono arrivati qui magari giovanissimi con poca esperienza li ha fatti diventare dei portieri veri quindi secondo me Biato sarebbe molto importante che rientrasse ecco non so per quale motivo però mi è stato detto che non per un periodo non è più forse sono motivi personali può darsi non lo so però ecco sicuramente un preparatore dei portieri è fondamentale e Enzo Biato sarebbe la cirugina sulla torta e allora speriamo insomma Biato possa risolvere più presto le sue problematiche personali e tornare al più presto con questi ragazzi poi vabbè Tiziano si salutano anche tra tifosi Tiziano saluta ciao Alberto tifoso della Mediavalle un vero tifoso della mitica della mitica noi abbiamo detto tu sei di Viareggio che anche in Versilia ora Viareggio poi Viareggio la Versilia sono i quattro no perché anche lì vabbè bisognerebbe essere precisi caro opinion leader che vai al Carnevale bisognerebbe essere precisi si preciso no perché insomma non allora no aspetta buonasera domanda ma Pagliuca questo lo devo leggere subito poi proseguo dopo buonasera ma Pagliuca ce la farà a mettere la testa a posto non rischia di trasmettere troppo nervosismo alla squadra forza Lucchese quest'anno ci salviamo Fabrizio allora qui abbiamo un rappresentante della squadra allora perché poi Pagliuca può dare l'impressione di essere insomma molto esuberante no sappiamo però no nervosismo no assolutamente anzi con noi è molto ovvio che quando c'è da urlare quando c'è da diciamo incavolarsi si bravo lo deve fare come è giusto che sia allenatore però con noi ci trasmette sicurezza e ci dà quello sprint giusto per entrare in campo con la convinzione di quello che siamo e di cosa possiamo migliorare e di cosa possiamo fare quindi no no a noi nervosismi niente ecco più che altro cerca di alimentare la vostra autostima diciamolo così ovvio stavo dicendo prima di leggere ho visto questo messaggio ho detto lo voglio leggere che anche in Versilia ora a parte le differenze di Areggio ci sono molti è arrivata la zanzara molti sostenitori della Lucchese come ben sai sì sì anche diciamo un altro giorno ho occupato di andare al ristorante con la mia famiglia ho trovato un tifoso della Lucchese però non so come si chiamasse sinceramente però c'era si è riconosciuto e quindi sì sì abbiamo parlato quindi ho poi capito hai detto che era tifosi da Lucchese però non mi ricordo il suo nome invece la Via Reggino io approfitto della tua presenza stasera di un Viareggio che calcisticamente in questo momento insomma diciamolo domenica cominciano anche tutti per fortuna diciamolo ricominciano tutti i campionati dall'eccellenza alla promozione fino alla seconda categoria poi ripartirà anche la terza ripartiranno anche i campionati amatoriali cosa ne pensi di un Viareggio in seconda categoria e ancora di più da Via Reggino cosa ne pensi di uno Stadio dei Pini ancora chiuso ma sarebbe tanto però dispiace dispiace perché comunque sia anche il Viareggio ha fatto il suo percorso di storia ci vanno in C1 C2 ma manca in realtà come il Viareggio però è bello con queste rivalità anche toscane fra parentesi è bello che ci siano e spero che in un giorno che tornino a tornare in Serie C o comunque sia risalire di categoria un peccato che non esiste Giulio ti manca a te comunque a parte il campanilismo i derby dell'inizio degli anni 70 quando nel Viareggio c'era cavallito te li ricordi? sì me li ricordo me li ricordo dai era bello il derby lucchese ma assolutamente i derby sono tutti belli perché poi in quegli anni il calcio era un po' diverso purtroppo nel senso cioè in quegli anni lì il calcio era era la passione vera e quindi mi ricordo anche delle partite a Via Reggino dove c'era 5, 6 mila 7 mila spettatori e ora chiaramente anche sul discorso dello stadio effettivamente ho visto una foto qualche giorno fa non mi ricordo su un social l'erba alta a un metro tutta gialla la gradinata se non sbaglio è stata mi sembra di essere una battuta lo stadio dei Pini non è che offre un grande spettacolo lo stadio dei Pini ha una sua storia poi sono un'altra anche per il discorso del torneo di Viareggio che ora è il torneo di Viareggio che si gioca alla Spezia ma la Viareggio è anche una partita cioè non ha senso veramente tempo fa Francesco a proposito del torneo di Viareggio di cui parlava l'opinion leader non è che divaghiamo stiamo sempre parlando di cose secondo me importanti vedi una foto del primo anno 70 e credo penso l'unica volta forse che la finale del torneo di Viareggio l'hanno giocata l'Inter contro il Milan allora c'era io non lo so quanta gente c'era quel giorno allo stadio dei Pini ma in quella foto è una cosa impressionante mi ricordo anche quando ero bambino andai a vedere mi sembra Juve Juve Empoli forse non so se era una finale una semifinale giocarono allo stadio dei Pini c'era un sacco di gente comunque sia un torneo dove c'era un sacco di osservatori anche per mettersi in mostra per le squadre che giocavano era insomma importante ci siamo entrati perché insomma tu sei di Viareggio quindi mi sembrava anche giusto visto che insomma stasera c'è Francesco buonasera dopo sette partite è chiaro il nostro limite Antonio dice siamo scarsi in difesa attenzione aggiunge che non vuol dire che i difensori sono scarsi lui dice è tutta la squadra che fa fatica nella fase difensiva basta vedere il gol di Ancona e il pareggio del Teramo peccato la squadra gioca bene crea e segna ma poi rovina tutto con i pasticci in difesa ma insomma Antonio vuol dire Pagliuca fai qualcosa dice lui dice la fase difensiva no su questa cosa qui chiaramente non è vero che sono scarsi ma è vero che va rivista la fase difensiva questo è ovvio perché è una squadra che subisce mi sembra dieci reti in sei partite mi sembra se non sbaglio è ovvio che la fase difensiva va rivista ma io credo che appunto tutto passi anche dal famoso filtro al centro campo quindi va ci vuole che Benzaia trovi la condizione ci vuole che Eclou la trovi al 100% ci vuole che rientri picchi ci vuole che tutta la squadra alla fine deve migliorare sotto quell'aspetto la fase difensiva comincia dagli attaccanti per prima ma comunque diciamo ritengo la squadra corta esatto quindi dico è chiaro che un Benzaia che non è sicuramente al 100% un Eclou che gioca a fasi alterne perché viene anche da un grave infortunio un Picchi che anche lui viene da un grave infortunio e una partita gioca e poi si è rifatto male purtroppo è ovvio che quando questi giocatori saranno disponibili e saranno al 100% la squadra avrà una fisionomia che farà beneficio assolutamente Linda è d'accordo con te sull'analisi che hai fatto ora poi dice un saluto a Corsinelli Linda è una grande tifosa della Lucchese sicuramente tra i giocatori più positivi di quest'inizio di campionato dice di te poi a Pontedera io questo non lo ricordavo segnò tre gol in tre partite consecutive vero? vero ha ragione Linda e la ringrazio per i complimenti quindi però attenzione ora però dici quindi potrebbe battere questo suo record visto che ho notato gli piace inserirsi l'ambizione è sempre andare ad arrivare più in alto quindi speriamo di sì posso fare un commento sulla difesa? sulla fase difensiva scusami e comunque sia col mister stiamo lavorando veramente noi difensori penso che siamo quelli che siamo più in campo a livello di allenamento quindi ci stiamo lavorando ogni giorno per migliorarsi e spero che di queste partite si evitano i miglioramenti e di cercare di tenere la porta inviolata tutte le partite che verranno ci tenevo a dire questo che stiamo facendo un mazzo tanto per migliorare comunque sia di non prendere gol quindi ci tenevo a dire che veramente ci teniamo anche noi nel senso non è che questo ci tenevo a dire l'hai visti film di allenatore nel pallone? sì l'ho visto ma no vabbè non ti ho chiesto se hai visto c'era una volta in America sicuramente però siccome parliamo di pallone e mi allaccia a questo lui è un cultore di cinema anche se non è preparatissimo ciao sono Alessio dice Alessio attento Giulio da lunati io cercherei prima di non prendere con un bel 5-5 no 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 si è fermato a 5-5 dai e se giochi poi dice per poi passare ad un 4-3-3 ma Ronzo Canà schierava a 5-5-5 5-5 certo è un modulo un po' strano poi dice sono incredibili i due gol di Ancona per sempre Forza Lucchese beh ora lui si riferisce forse al 2-0 dove effettivamente i due centrali si fecero un po' infilare in mezzo e vabbè allora Forza Lucchese sempre quest'anno da tifosa a Canita questa è una donna vedo una bella squadra anche se abito a Pisa Forza Lucchese e comunque se nel Pisa gioca Lucca nella Lucchese dovrebbe giocare Pisa ti giuro che è vero questo messaggio Francesco ciao da Sara Sara ti saluto io l'opinion leader ci è rimasta male perché non l'hai salutato quindi la prossima volta pensaci vai sulla storia delle donne un giorno dirai la verità opinion leader assolutamente non ti mandano più messaggi vedo che glissi quando si parla glissi secondo voi chi dice che questa squadra è uguale a quella dello scorso anno le partite le guarda davanti o dietro la televisione no vabbè opinion leader lui non c'era l'anno scorso rispondete noi siamo qui per fare anche per criticare se siamo qui a dire dopo dicono che siamo lecchini allora veramente non so se qualcuno lo fa per partito preso per alzare un po' di polverone non lo so ma paragonare questa squadra a quella dell'anno scorso è una bestemmia no poi dice Ionni sembra che quasi i messaggi arrivino buonasera a tutti basta basta col ricordare il campionato dell'anno scorso e lo so però ogni tanto basta mettere in discussione coletta viene da un infortunio grave ha bisogno di riprendere il ritmo e comunque fino ad oggi ha già fatto miracoli gli attaccanti devono rimanere calmi e non frettolosi nelle conclusioni a rete iniziamo a pensare a Modena ora ne parliamo del Modena che si espugna che se si espugna con la Vispesaro lo stadio Porta Elisa fa il pienone forza e onore Ionni e ora Ionni dice se la Lucchese vince a Modena poi quella dopo con la Vispesaro lo stadio è pieno magari tu avessi ragione su tutto il fronte se mi permetti di allacciarmi al messaggio del tifoso è vero l'ho scritto anche io nel pezzettino che faccio su Forza Lucchese un altro piccolo difetto da correggere sicuramente è la frenesia nell'ultimo passaggio perché anche martedì sera abbiamo sbagliato due o tre volte l'ultimo passaggio che è quello che si sa è fondamentale secondo me per frenesia perché comunque tutta gente giovane attaccanti sono giovanissimi quindi a parte Fedato che comunque è sempre giovane perché 29 anni li vorrei avere però ti dico tante volte una volta a Gibilterra al primo tempo ha fatto un esterno in un'area di rigore che si aspettava un attimino è troppa frenesia un po' più di calma dici allora Francesco avete insomma mercoledì forse no ma c'è poco tempo c'è stato poco tempo e c'è poco tempo per preparare la trasferta di Modena no? penso che la state preparando col solito scrupolo contro una squadra adesso Bedini dalla regia centrale ci manderà le immagini che viene dal blitz di Cesena quindi vuol dire questo Modena che non era partito fortissimo però è una squadra no sicuramente è una delle squadre più attrezzate per vincere il campionato non ce lo neghiamo perché hanno nomi importanti e sicuramente è all'occhio di tutti però stiamo stiamo lavorando anche oggi abbiamo lavorato su determinate cose di campo per affrontare il Modena e per cercare di fare male nei punti deboli dove soffrono di più e niente arriviamo a cucchiare chi è mai a Modena per fare risultato eh sì perché si lavora mentre continuiamo ancora a vedere le immagini del Modena si deve lavorare sulla propria forza ma cercare di sfruttare anche laddove gli avversari possono avere delle lacune Attilio Tessera allenatore dicevo ci sono diversi ex è vero che ormai gli ex rischi di trovarli spesso uno importante mi permetto di dire Marotta e Renzetti li ricordo e anche Marotta certamente poi Varoni però è Varoni sinceramente non ricordo forse è stato un po' però vabbè loro hanno una hanno un'assenza pesante ha preso tre giornate evidentemente ha combinato qualcosa o un 6 eh se non sbaglio è un attaccante no? quindi non ci sarà vabbè vabbè vediamo dai allora il quando poi torneremo dopo la pubblicità fra qualche minuto vedremo qualche immagine che si rifà proprio caro Francesco all'ultima volta che la Lucchese giocò a Modena e il signor Francesco Corsinelli da Campo d'Ariazione di Viareggio aveva forse andavi già al Carnevale e forse già vedevi lui al Carnevale avevi tre anni avevi tre anni avevi tre anni avevi tre anni duemila duemila aspetta ti dico ma te avevi due anni e pochi mesi no tre anni tre anni se era tre anni e duemila va bene mi dicono di andare a pubblicità torniamo cerchiamo di leggere ancora i messaggi vediamo quelle immagini noi abbiamo preparato come sempre anche una probabile formazione noi ti abbiamo messo dentro però poi dipende da pagliù no finora hai sempre giocato ne hai saltato a solo una va bene dai torniamo per l'ultimo spazio siamo quasi arrivati in fondo siamo quasi arrivati in fondo tra poco eccoci tornati 22.15 in diretta dallo stadio Porta Elisa dove ormai abbiamo piantato opinion leader le tende il giovedì sera noi non ci muovono più di qui ci fermiamo qui ci sarebbe da aspettare dieci giorni alla prossima io sono contento e te sai il perché no questa non l'ho capita però vabbè ci ha scritto mi ha telefonato perché ci sono dei signori caro Francesco Corsinelli anche di una certa età che con i social no e usano ancora il telefono il nostro amico Franco dalla Versilia a proposito di tifosi della Versilia tifosi storici ancora più di te Franco era presente pensate martedì qui in gradinata nonostante solo 84 anni si fa accompagnare dal figlio e quindi era presente contro il Teramo lui dice abbiamo sbagliato troppi gol quindi bisogna essere più concreti sotto porta c'è ancora qualcosa da sistemare sia in difesa che davanti e opinion leader sei troppo ottimista bisogna stare un po' più cauti quindi però noi salutiamo salutiamo Franco Franco dalla Versilia intanto Matteo Pedini se puoi preparare poi te le chiamo quei 30-40 secondi che ci portano indietro di 20 anni adesso poi capirete buonasera non so se ne avete parlato niente da dire per quanto riguarda la squadra questo è Mario però da Lucca penso sia un buon gruppo e lui ce l'ha col comportamento dell'allenatore che è molto discutibile la società penso dovrà intervenire pesantemente Mario ne abbiamo già parlato e abbiamo spiegato un po' le cose non è che in società dormono in società si rendono ben conto di quello che comunque è successo però le cose vanno vissute dall'interno vanno valutate e vanno capite tutte fino in fondo buonasera volevo fare una domanda a Giulio visto che hai detto che il modulo di gioco di Pagliuca non prevede la punta di peso che tenga sul pallone mi spieghi come mai martedì la difesa partivano lanci lunghi a scavalcare il centrocampo infatti non se ne è presa una ma forza lucchese e questo è il tuo amico Paolone di Moriano però rispondi di modo sintetico Paolone 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 la lucchese se ha una caratteristica è quella di giocare a palla a terra io la lucchese che calcio al pallone a scavalcare il centrocampo sinceramente l'ho vista pochissime volte quest'anno e quindi è chiaro che lo facciano loro casomai quel gioco lì specialmente gli ultimi 20 minuti di cercare non sei d'accordo con Paolone non sei d'accordo con Paolone? diciamo che la lucchese ha la caratteristica di giocare palla a terra e per buone trame anche molto bene quindi sono fiducioso senti questa Francesco certo siamo dei polli prende le gol da Cucurullo Cucurullo ha questo cognome che però ragazzi ha fatto anche un bel gol l'ha calciata al volo è chiaro l'hanno lasciato solo speriamo di non rivedere un film già visto un po' meglio speriamo bene tu e Nennini qual è la disposizione che vi dà Pagliuca siete due esterni sale uno aspetta l'altro sale l'altro aspetta quell'altro come funziona? ma sicuramente dipende da parte della partita nel senso che magari a volte predilice per mandarmi un pochino leggermente più alto me o magari come col Teramo ci alterniamo molto spesso voi sia siamo due giocatori di gamba quindi ecco insomma non è che partite tutti e due alla pericola no no ovviamente no allora ma dopo la stagione scorsa con 60 gol subiti il reparto che doveva essere in primis potenziato con esperienza e forza non doveva essere la prima cosa parlare ancora della difesa eppure il DS ha giocato in quel reparto vabbè sciati quello vero di una critica di Oma poi post-critum Guido Pagliuca è il grido di battaglia quindi qui vabbè come vedi insomma ognuno c'è i suoi cavalli di battaglia come si dice quest'anno sono contento posso finalmente vedere la lucchese anche fuori casa grazie a Sky sì perché c'è anche questa opportunità poi caro Giulio mi dispiace smentirti ma ufficialmente Luca è qui è del Pisa detto da Chiellini il fratello l'altra sera è in trasmissione ed ha anche detto che quello che scrivono i giornali sono tutte ci puntini 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 e mi ha capito vabbè ognuno dice la sua Giulio è un'operazione che non penso che Chiellini possa andare a televisione e dire no no Pisa è della Juventus infatti ha ragione a proposito è il gioco delle parti Pisa della Lucchese com'è sì sì ho due anni di contratto sì sì anche lui il ragazzo della Lucchese questo fa queste sono operazioni buone interessanti Pagliuca sarà anche amato qui rispondono a me invece amato è amato dai ragazzi non scherziamo ma ora basta con le squalifiche è come dargli torto non siamo al torneo del bar così è ridicolo se non riesce a trattenersi deve cambiare mistiere quindi complimenti allora Guido è uno di noi ma non Casotti Pagliuca infatti spesso ci raggiunge in tribuna vabbè quindi vedi quando noi quest'anno non l'avevamo ancora detto non l'avevamo detto facciamo cavare ci vengono dietro allora dice come allenatore è tutto anima e cuore direbbero anima e cuore ed è proprio il grosso attaccamento al suo lavoro che lo tradisce è anche molto preparato complimenti a Corsinelli che è un ottimo elemento per la lucchese questo è Mario Capello da Firenze dovrà ringraziare Capello? Grazie Mario grazie mille dei complimenti Capello Capello ma si direbbe bene grazie grazie Mario grazie Mario grazie Mario sì vabbè poi allora qui continuano a telefonare Giulio che facciamo tanto Matteo prepariamo quelle immagini leggo questo poi opinion leader ottimi risultati nelle ultime due partite solo un punto complimenti questo è il tuo amico e naturalmente sabato forza Modena non te lo dimenticare opinion leader comunque a fine campionato sai cosa ti aspetta forza Pisa Sporting Club forza Lucchia ma in questo caso parla del giocatore fa invidia all'Italia intera Leonardo da Cascina vabbè caffè l'avete preso quindi abbiamo sempre da prendere il caffè io e te Leo però però cioè vaci piano perché se no ti infilo la testa nella trazione del caffè me l'hai fatto in nervosire 22-22 allora Francesco Corsinelli il 25 febbraio 2001 tanto per far capire quanto sono giovani questi ragazzi tu sei del novembre 97 quindi avevi tre anni e spiccioli sì la lucchese giocava a Modena stadio Bra era sempre il Bragliano poi l'hanno rimodernizzato vabbè finì Modena 2 a 2 no magari Modena 2 Lucchese 0 2 a 0 l'ultima volta che Modena e Lucchese si sono affrontati in assoluto sono passati più di 20 anni cioè quello che continua a telefonare vabbè e segnalano Fabbrini gol che stiamo rivedendo al decimo al primo tempo Fabbrini che era un ottimo attaccante il raddoppio all'ottantunesimo di Grieco che invece se non ricordo male era un centrocampista su rigore da allora caro Francesco Modena e Lucchese non si sono più affrontate devo dire forse più per demerito nostro che per demerito loro e comunque globalmente ti dico tu che sei molto giovane la Lucchese al di là di questa sconfitta quell'anno il Modena vinse il campionato salì in serie B precedendo il Como la Lucchese ha storicamente una tradizione discreta quindi eh infatti ricordo di cui ti parlavo di andare bene sabato di vincere e basta quello è chiaro ma voi partite mi sembra con un allenatore come Pagliucca non è che vi dice ragazzi andiamo vediamo di portarvi al punto non penso proprio assolutamente no allora la probabile formazione della Lucchese vediamo se l'opinione del leader è d'accordo stavolta non posso dire che l'abbiamo concordata però facciamo una cosa poi giovedì ti chiamo e la concordiamo io ho messo Coletta in porta però ipotetica perché poi Coletta in porta Corsinelli Bacchini Valdan perché non sapevo che Bellic in realtà mi dicono sta molto meglio quindi potrei dire Corsinelli Bellic Baldan Nannini Eclub Ensaia Frigerio Semprini Nanni Fedato sono andato sul facile però vabbè poi magari qualcosa di diverso ci sarà non lo so che dici Giulio? no questa è la formazione è la formazione è la formazione anche in serie C se vuoi ah hanno scritto la Zanzara e Pisano non lo so colore non si vede no anche in serie C Francesco non si può più parlare di undici titolari ce ne devono essere anche in serie C almeno sedici diciotto perché poi ci sono cinque cambi ci sono tante partite è importantissimo avere cinque cambi che come esempio contro contro l'Olbo quando è entrato Visconti secondo me ha fatto molto bene la panchina quindi come sono entrati altri non mi ricordo chi è entrato con l'Olbo però comunque sia i cambi sono determinanti per far vincere le partite avere un organico importante con con determinate persone in panchina che ti entrano e ti cambiano la partita secondo me fa molto la differenza in questo campionato ma come lo farà in altri campionati ecco siamo quasi in chiusura ci chiedono novità sullo stadio però non penso che ce ne siano continuano a fare il nome di Riccardo Corredi dicono entrerà nella Lucchese vabbè Sant'Anna Boys vedremo e poi buonasera domani l'altro bisogna andare a vincere allo stadio Braglia contro il Modena e riprenderci tre punti raggiungere la salvezza tranquilla per mantenere la categoria faccio i complimenti a Corsinelli che è giocatore di buone prospettive e di grande corsa questo è quello che devo dire molto tu sei uno che quando parte devo dire anche in un'altra parte non è messo male no no anzi anche lui c'è una bella corsa comunque ringrazio per i complimenti siamo a chiusura ce ne sarebbero ancora tanti altri al volo dai mi devi dare un secondino perché oggi pensavo quando mi dice Bevini sfuma Bevini sfuma anche se si sfuma se no li gufo la Juve no no dai allora quando mi ha detto che c'era Corsinelli in trasmissione così mi è avuto un flash no e mi è avuto un mente che nella Lucchese io non l'ho visto chiaramente però l'ho sempre sentito rammentare c'era uno che aveva un anagramma del suo cognome che era Corsellini che tra le altre cose dopo la Lucchese andò a giocare a Viareggio quindi guarda la strana analogia c'è Corsinelli che è l'anagramma di Corsellini Corsinelli di Viareggio Corsinelli dopo la Lucchese andò a giocare a Viareggio ho capito è una curiosità ma mi è venuto in mente Corsinelli Corsinelli ma è un po' strano le partite del prossimo turno le partite del prossimo turno Ancone-Molese Cararese-Montevarchi Grosseto-Cesena Modena-Lucchese Siena-Pistoiese Teramo-Viterbese Vispesaro-Fermana Olbia-Gubbio Pescara-Reggiana Pontedera-Virtu-Sentella Vi ricordo la Lucchese scendere in campo alle 17.30 Ci sono un paio di partite che mi sembra si giocano prima poi più o meno sono tutti allo stesso orario Francesco il tempo è volato via è stato un piacere averti qui con noi No, è stato un piacere mio e spero di rivederci presto dai Ma ci mancherebbe altro noi speriamo davvero come ha detto qualche telespettatore magari di vederti festeggiare anche qualche gol ma soprattutto di vederti festeggiare di vedervi festeggiare in campo soprattutto tanti gol insieme certo, grazie sicuramente Grazie a voi Ci ritroviamo giovedì Come sempre stessa ora Stesso male Dovremo commentare solo la partita di Modena Ma vai a Modena No, per ora Non lo so ancora Ah, sei nel dubbio Sono ancora nel dubbio Vabbè, ringrazio Abramo Rossi che come sempre ha curato da autentico artista qual è qui tutto la parte tecnica dello stadio Porta Elisa anche naturalmente Simone Andreucetti per il supporto tecnico Matteo Pedini che non so forse ci ha già sfumato se così non fosse grazie anche a te Matteo appuntamento a giovedì prossimo sempre alle 21 Buonanotte